se nel video di settimana scorsa si andava verso destinazioni sconosciute ora voglio vedere con questa Icy Nude di Uda Beauty partiamo proprio verso l'Interstellar e oltre perché qui c'è uno specchio che ci dà un po fastidio ma noi dobbiamo guardare lei aperta solo per le foto direi che iniziamo subito a sbocciarla perché qui c'è tanta tanta roba che ci può interessare solo che non saprei se la piego così vi dà molto fastidio allora teniamola così intanto vedete i colori poi ve li rimostro partiamo con questo che è super super cremoso abbiamo fatto già un danno perché ci ha fatto il buco 23 solo il primo è così cremoso gli altri no 234 si il primo potete vedere che ci ha fatto proprio il buco vabbè però è vabbè qui siamo su altri pianeti proprio però e andiamo avanti con i due glitter un pochino polverosi però c'è solo con la luce letteralmente che roba è letteralmente e ora puliamo asciughiamo e andiamo nella seconda fila dove c'è un bianco 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 non avrei mai messo un colore bianco così anche questo occhio vediamo una seconda fila il bianco 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 è sì molto bianco 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 questo è quello da occhio effettivamente molto cremoso allora è una cosa da paura diciamo che bisognava farci un attimo attenzione che c'è tanto fallout anche però andiamo con gli ultimi due che sono due opachi quindi non rischiamo nulla e ora finiamo con l'ultima fila perché qua direi che e poi ve la mostro tutta allora questo è un rosina chiaro 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 che potrebbe sembrare quasi un bianco questo secondo qui è un glitter che quasi da smr è asciutto è molto asciutto va bene andiamo avanti terzo e quarto sempre stare attenzione a questo andiamo qui ecco questo glitter qua si sente molto il terzo non si vede il quarto è cremosissimo ultimi due e poi vediamo un po di considerazioni perché stiamo facendo un po di poccio voi chi dite 5 e 6 allora allora lei o qualcosa del genere questa è la condizione della questa è la palette che effettivamente ha dei colori fantastici assolutamente vi riappoggio un attimo eccoci allora cosa ne penso bella ma bella ma mi sarei aspettata qualcosa sinceramente di più allora qui abbiamo un colore che è quasi cremoso ed è bellissimo c'è proprio bellissimo provo qui ecco però è cremosissimo va bene anche come illuminante davvero è quasi un dual chrome ha del giallo dentro i glitter qui sono belli questo è un altro colore che dobbiamo stare un pochino attenti perché vedete che è cremoso anche lui che però se vogliamo parlarne e per finire l'ultimo cremoso e questo di diamond di legge che vedete che se premo un attimo e lo mettiamo qui andiamo a riprendere il primo che sarà questo che non vi ho messo nella mano questi tre da soli volano questo non mi fa impazzire perché con le luci sembra quasi che abbia sotto un verde che è un po un tipo effetto libido che non mi fa proprio impazzire poi andando avanti in questa palette troviamo gli opachi sono belli un po polverosi ma belli questo bling è un glitter glitterato ormai ora malattamente glitterati che non si capisce uso questa che è più pulita è proprio glitter glitter che vengono via oltretutto e poi un colore bianco un colore rosina talmente chiari che vanno bene per uniformare e basta non lo so allora i colori sono bellissimi tranne questo che deve essere bellissimo ma non lo è però mi sarei aspettata sinceramente qualcosa di più fatemi sapere voi cosa ne pensate e questo è il macello quindi attenzione al fall out